ciao a tutti buonasera la prima impressione che mi viene da condividere con voi è il senso di bellezza di questa nostra comunità persone che si ritrovano in questo luogo meraviglioso che mangiano insieme che parlano di tante cose che sorridono scherzano ma hanno anche dentro il cuore tanta tristezza e tanta rabbia per quello che ci sta succedendo intorno persone che vengono anche da lontano da regioni lontane ma che hanno voluto essere qui nonostante i sacrifici di percorsi complicati per raggiungerci e questa è la grande bellezza di questa nostra comunità la nostra comunità possibile tutte le volte che mi capita di ragionare sul presente soprattutto sul futuro mi viene da soffermarmi su alcune parole della nostra costituzione su quell'articolo 3 che è un po il senso della sinistra pacifista e radicale che vogliamo essere quell'articolo 3 della costituzione dice anzi ci impone impone a noi cittadini non solo all'istituzione alla repubblica ognuno di noi di impegnarsi a rimuovere gli ostacoli alla libertà e alla eguaglianza noi ce l'abbiamo nel simbolo l'uguale e l'attività parlamentare che stiamo portando avanti quotidianamente va nel senso non solo di denunciare tutte le diseguaglianze che questo governo di centrodestra di centrosinistra questo governo insomma indefinibile ormai sta proponendo al paese con delle fratture con delle perversioni rispetto ai principi ai valori fondanti della sinistra da cui ognuno di noi proviene verso cui ognuno di noi vuole andare che sono drammatici noi ci siamo impegnati per esempio non avete visto le nostre facce nelle fotografie di alcuni che hanno festeggiato l'approvazione della legge sulle unioni civili noi in quelle ore mentre altri subito dopo l'approvazione alla camera andavano a festeggiare non si sa che cosa eravamo già impegnati a ragionare su un progetto concreto pensavamo a quelli a quei cittadini e quelle cittadine che da quella legge erano stati esclusi e allora ci è venuto in mente il progetto degli step child lawyers cioè di quegli avvocati di possibile di questa nostra bellissima comunità che in tutte le regioni in ogni città hanno dato la loro disponibilità per seguire casi concreti ed aiutare i cittadini e le cittadine ma soprattutto i bambini discriminati dalla legge sulle unioni civili a ritrovare un senso di libertà e di eguaglianza come ci diceva l'articolo 3 la stessa cosa che abbiamo fatto per esempio sul bonus scultura da 500 euro che renzi ha voluto introdurre diceva lui come antidoto contro il radicalismo contro le derive estremistiche contro gli integralismi che poi producono anche il terrorismo e che guarda caso però aveva escluso proprio i diciottenni di origine straniera quindi vi immaginate una classe di ragazzi di studenti di nazionalità diverse seduti uno accanto all'altro compiono gli anni uno riceve il bonus l'altro no abbiamo fatto una battaglia enorme una battaglia appassionata su questo tema e questa discriminazione che era una discriminazione odiosa e ingiusta profondamente sbagliata abbiamo contribuito a superarla questo è il senso della nostra azione politica quotidiana nelle aule del parlamento non solo nelle aule del parlamento ma dentro le comunità dove possibile c'è dove possibile lavora dove possibile si impegna ed è questo un po il senso anche della direzione dove noi vogliamo andare non vogliamo essere una sinistra residuale che a corrente alterna diventa la stampella di un progetto politico indefinito indefinibile vogliamo essere una sinistra protagonista dei cambiamenti e una sinistra coraggiosa una sinistra curiosa una sinistra umile una sinistra pacifista e radicale come ho detto all'inizio di questo mio intervento una sinistra che prende molto sul serio l'impegno dell'articolo 3 verso la rimozione degli ostacoli che concretamente impediscono ai cittadini di questo paese di essere liberi ed eguali e allora i cittadini che vorranno incontrarci su questa strada penso che saranno tanti perché c'è come dire un uno spazio politico importante da occupare fra una sinistra che continua a essere identitaria ideologica residuale ma all'occorrenza utile a fare da stampella al partito democratico ed una sinistra invece che vuole prendersi il rischio il rischio di quell'impegno costituzionale repubblicano a cambiare le cose questo credo che sia possibile questo è quello che stiamo cercando di fare con passione e con umiltà tutti i giorni nelle aule parlamentari fuori dalle aule parlamentari è questo che dobbiamo cercare di fare insieme per dare non solo al nostro partito ma al nostro paese una possibilità concreta di cambiamento verso la libertà e l'eguaglianza dei cittadini grazie